Benvenuti a questo spazio periodico di informazione e di incontro con la musica. Parliamo della stagione sinfonica 2017-2018 al Teatro Sociale di Sondrio, una stagione importante che va sotto il nome di Sondrio Musica. È un cartellone ricco, si compone di 14 appuntamenti, di cui 12 in abbonamento. Di questi eventi parliamo questa sera con Lorenzo Passerini, che è direttore dell'orchestra Antonio Vivaldi. Benvenuto Lorenzo. Buongiorno. Benvenuto anche a Tommaso Benciolini, che è solista, flautista dell'orchestra, e a sua volta insieme a Lorenzo e ad altri amici, componente dello staff che coordina l'attività. Il programma della stagione sinfonica di Sondrio è frutto di una partnership molto importante tra l'associazione Amici della Musica di Sondalo, che è giunta alla sua 55esima stagione, quindi l'esperienza collaudata degli Amici della Musica, coniugata alla frescrezza, alla intraprendenza dell'orchestra Antonio Vivaldi. Tutto ciò si trova riassunto anche in un pregevole pieghevole, mi scuserete questa rima, che riassume proprio le proposte di questo cartellone, che conosceremo nel corso di questi mesi, proponendovi di volta in volta i temi salienti che caratterizzano gli spettacoli, i concerti in programma. Lorenzo, cominciamo col dire che è una stagione importante, cementata da questa partnership con gli Amici della Musica. Sì, è una stagione molto importante dal punto di vista della musica sinfonica. L'orchestra Ivaldi è l'orchestra in residenza della stessa stagione. Per residenza si intende l'orchestra del teatro, l'orchestra della città, l'orchestra del pubblico, si intende forse anche un po' l'orchestra di riferimento. Ed è proprio per questo che quest'anno abbiamo programmato all'interno della stagione cinque appuntamenti che sono tutti molto diversi fra loro. Si parte il 21 novembre con un concerto incentrato sulla figura del compositore Sibelius, dove anche ci sarà spazio per un concerto per trombone solista che appunto mi vedrà impegnato in questa duplice veste. Seguirà poi a dicembre forse il concerto più atteso della stagione, nel quale sono riuscito ad invitare il premio Oscar Nicola Piovani, il quale assieme a me dividerà la direzione del concerto e lui nella seconda parte condurrà la suite del celeberrimo film La vita è bella. Seguirà poi il concerto di Capodanno che quest'anno non si terrà più il primo di gennaio, ma il 31 dicembre 2017 alle ore 17. È un consueto concerto nel quale si potranno ascoltare quelli che sono i brani della più florida tradizione viennese, Valzer e Polk, che assieme però ha delle proposte particolari. Infatti ci sarà uno strano concerto per sassofono e una fantasia per violino, eccetera. E quindi è anche un concerto di Capodanno non scontato in questo senso. Poi c'è anche la jazz band della vostra orchestra. Il 14 di gennaio c'è la jazz band dell'orchestra Vivaldi, che è un esperimento, nel senso che è la prima volta che l'orchestra si cimenta in un repertorio prettamente jazz. E abbiamo la fortuna di avere come ospite Freddy Kempf, che è uno dei pianisti più importanti della scena internazionale. Per quanto riguarda il concerto conclusivo, passo la parola al mio collega flautista Tommaso Benciolini, che sarà proprio protagonista della serata. 22 di maggio. 22 di maggio. Durante il concerto conclusivo della stagione di Sondi o Musica, avremo una serie di evenienze importanti. La prima è che verrà premiato un compositore, con questo nuovo premio che abbiamo istituito, il premio Sondrio Musica, che si propone di premiare una figura importante del mondo della composizione per portare anche questo ulteriore aspetto al nostro pubblico di Sondrio. Poi, in secondo luogo, io sarò impegnato come solista nell'esecuzione del famoso concerto per flauto e arpa di Mozart, che il caso vuole che in 55 anni di edizioni di questa stagione non sia mai stato eseguito, e per l'occasione sarà con noi il grandissimo arpista Emmanuel Seisson, artista francese famoso in tutto il mondo e attualmente prima arpa del Metropolitan di New York, che ha accettato di partecipare con noi per suonare questo pezzo, che è un po' il pezzo più importante soprattutto del repertorio dell'arpa. 5 le date dunque dell'orchestra Antonio Vivaldi, 7 quelle ricondotte in qualche modo alla organizzazione, alla scelta anche degli amici della musica di Sondalo, di cui poi parleremo anche nelle prossime puntate, con un inizio, lo ricordiamo, martedì 24 ottobre, questo è il primo appuntamento, il concerto inaugurale della stagione sinfonica di Sondrio Musica con l'orchestra sinfonica MAV di Budapest. Lorenzo, quando si sceglie una stagione quali sono i punti fermi, i filoni, gli autori, come si va a individuare il filo conduttore di un programma, di un calendario? Dunque, io credo che per proporre una stagione bisogna necessariamente tenere in considerazione quello che è il pubblico della stessa, nel senso che bisogna proporre delle serate diversificate, cercando di mostrare quello che è, a mio avviso, l'eclettismo dell'orchestra sinfonica, che non è paludata in un unico genere musicale della musica classica del Settecento o dell'Ottocento. E, di fatti, questo programma, secondo me e anche secondo il presidente degli amici della musica, D'Agasso, riesce a racchiudere tutto quello che è lo spettro della musica sinfonica. Di fatti, nella stagione c'è anche un requin di Mozart, ci sono dei cantanti solisti, c'è per l'appunto un concerto jazz, eccetera, eccetera. E, secondo me, anche in una stagione, come già sottolineato dal collega, non bisogna dimenticarsi della musica contemporanea. Di fatti, questo premio Sondromusica sarà però preceduto durante la stagione da delle prime esecuzioni assolute, anche del compositore Pier Giorgio Ratti, che ha fondato l'orchestra con noi cinque anni fa, che l'anno scorso ha presentato al Teatro Sociale di Sondrio la sua prima opera. Quindi, insomma, quello che è l'eclettismo, credo che sia la parola chiave per strutturare un cartellone che abbia senso e che possa dare l'interesse anche al pubblico proprio di fare un abbonamento ad una stagione, perché è questa la cosa fondamentale, perché qualora si organizzasse un concerto singolo, si può fare naturalmente quello che si vuole, però è nella stagione, bisogna dare un ampio spettro. Hai parlato dell'orchestra Vivaldi, un percorso di cinque anni. Cosa rappresenta questa stagione per la crescita dell'orchestra e per voi che ne siete perni importanti? Allora, questa stagione di fatto è la stagione più importante anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista dei solisti ospiti da sempre. L'orchestra è nata nel dicembre del 2011 ed è stato un crescendo costante in questi anni. Sicuramente la partnership con il Teatro Sociale di Sondrio ed in particolar modo con gli amici della musica è stata la partnership proprio che ci ha portato a farci conoscere anche all'interno della nostra provincia. C'è sempre stato un rapporto meraviglioso con Sergio D'Agasso e con Roberto Spagnoli per quanto riguarda la stesura di programmi e credo che questa sia veramente la stagione più internazionale per noi dal punto di vista sia del repertorio proposto, nel senso che all'interno della musica sinfonica classica scegliamo sempre delle sinfonie particolari e questo anche riallacciandomi al discorso precedente la mia volontà è di non proporre dei brani necessariamente noti, necessariamente famosi. Di fatti quest'anno eseguiremo la quinta sinfonia di Sibelius e la prima serenata di Brahms che sono due brani meravigliosi però non così noti al grande pubblico. Forse per quanto riguarda l'orchestra rival di fuori da Sondrio ci può magari illustrare brevemente a Tommaso quello che è il nostro percorso. Certo, è anche la vostra affermazione su scenari non solo nazionali. Sì, diciamo che per quanto sia importantissimo avere delle residenze ed essere radicati in un territorio che identifichiamo come la nostra casa, per fare i musicisti e condurre un'orchestra nel 2017 bisogna necessariamente essere internazionali e bisogna non avere barriere di alcun tipo e cercare di puntare al maggior numero di palcoscenici possibile. In questo senso quindi il nostro lavoro va anche nella direzione di portare l'orchestra al di fuori del territorio, oltre che in tutto il territorio nazionale ma anche al di fuori. Per esempio quest'anno la nostra tournée durante il periodo di Capodanno toccherà anche in Lussemburgo dove saremo orchestra ospite proprio il primo gennaio. Per l'anno prossimo è prevista una lunga tournée in Cina e noi siamo molto orgogliosi di questo perché è molto importante appunto che i musicisti a cui noi ci freggiamo di dare lavoro, di dare spazio alla loro eccellenza, hanno bisogno di poter portare il loro lavoro anche al di fuori del nostro paese. Quindi l'orientamento è da una parte alla residenza e all'identificazione sul territorio e tra l'altro a questo proposito possiamo dire che l'orchestra non è in residenza solamente al Teatro Sociale di Sonde ma è anche in residenza al Teatro Maggiore di Verbania e siamo molto contenti di questa collaborazione perché è un teatro neonato e appena è stato aperto la nostra orchestra è stata chiamata in causa per partecipare attivamente alla programmazione e soprattutto Dulcis in Fundo da tre anni a questa parte la nostra orchestra è anche residente presso la stagione delle serate musicali di Milano e questo per noi è stato un passo importantissimo perché si tratta di una stagione estremamente prestigiosa e antica diciamo che ogni anno porta sul palcoscenico della Sala Verdi di Milano i più grandi artisti del panorama mondiale e quindi per noi essere in residenza presso questa stagione ha significato confrontarci con i più grandi artisti del panorama mondiale e metterci di fronte a un pubblico abituato a questi artisti. grazie a tutti grazie a tutti talento morbegnese come stai vivendo questa tua carriera la possiamo definire tale naturalmente questo tuo percorso di crescita e quali sono le tappe più significative che ti attendono? le tappe più significative che mi attendono sono un concerto a Città del Messico a metà novembre dove guarda caso ci sarà proprio Tommaso Solista poi dirigerò a Praga a gennaio 2018 e avrò una tournée in Corea alla fine dell'anno prossimo e una tourandotta al Teatro Real di Madrid a settembre del 2018 questi sono gli impegni diciamo internazionali poi dirigerò delle orchestre come ospite anche nel nostro territorio nazionale il primo di gennaio proprio il giorno dopo di Sondrio mentre l'orchestra Ivaldi è in Lussemburgo io dirigerò l'orchestra di Padova e del Veneto al Teatro Verdi di Padova quindi insomma l'orchestra si sta internazionalizzando e per fortuna anche io si sta internazionalizzando e professionalizzando sempre più lo ricordiamo a scanso di equivoci e di fraintendimenti un tempo si chiamava orchestra giovanile poi mi spiegavate che l'addizione giovanile può essere fuorviante è un'orchestra fatta da giovani professionisti cioè da eccellenze del talento musicale che non a caso vengono chiamate a esibirsi anche in contesti internazionali di grande prestigio e si esibiranno prossimamente c'è una data imminente non a Sondrio di cui torneremo a parlare in seguito ma a Morbegno subito per l'apertura di Play Morbegno per te morbegnese immagino sia anche un'occasione di orgoglio e di emozione sì perché la musica nella mia vita è nata nella società filarmonica di Morbegno di conseguenza sono sempre grato alla città naturalmente quindi sono felice che il concerto inaugurale della stagione 2017-2018 dell'orchestra Vivadi sarà proprio nel meraviglioso chiostro dell'auditorium Sant'Antonio con un programma interamente vivaldiano dove presentiamo dei concerti che posso definire tranquillamente spettacolari nel senso che prevedono 5 solisti, 6 solisti, 7 solisti ci sono anche delle persone dislocate al di fuori dell'ambiente dell'orchestra messi lontani, insomma è un concerto che tenta di anche sfruttare quella che è la spazialità proprio del complesso di Sant'Antonio quindi 22 di settembre con questo Viva Vivaldi tra l'altro ha ingresso gratuito, una straordinaria occasione a Morbegno dal 24 ottobre parte il ricco programma della stagione sinfonica di Sondrio di Sondrio Musica ricordiamo tra l'altro che le proposte degli abbonamenti sono particolarmente allettanti è possibile intanto scaricare dal sito degli amici della musica la modulistica per sottoscrivere l'abbonamento cominciano dal 25 settembre proprio le sottoscrizioni ci sono diversi luoghi a Sondrio La Pianola, Morbegno Van Radio, Tirano Il Mosaico Bormio Proloco, Turismo, Sondallo APT e anche a Poschiavo dove si può sottoscrivere l'abbonamento con delle tariffe che per un'offerta di 12 spettacoli è assolutamente interessante che va dagli 180 ai 220 euro ma c'è una grande opzione per i ragazzi, per gli under 25 proprio nell'ottica anche di offrire un'opportunità stimolante ai vostri coetanei e anche ai più giovani Lorenzo, vedo che per gli under 25 abbiamo delle tariffe assolutamente sostenibili che vanno dai 50 ai 60 euro quindi una grande opportunità Sì, ci vogliono giovani nei teatri ci vogliono giovani per la musica sinfonica perché la musica sinfonica piace, è bella perché serve anche un ricambio naturalmente nel pubblico il nostro tentativo è proprio di voler trovare giovani essendo giovani quindi di lavorare per loro, di lavorare con loro perché di fatto lo siamo pure noi e lo dimostrate portando questa grande carica innovativa coniugata a una professionalità crescente grazie dunque a Lorenzo grazie a Tommaso grazie a voi per averci seguito torneremo prossimamente a parlare della stagione sinfonica 2017-2018 di Sondrio Musica al Teatro Sociale di Sondrio con gli amici della musica di Sondalo e con l'orchestra di Valdi grazie ancora alla prossima occasione